Dal 2011 a oggi il poliambulatorio Ippocrate ha assistito circa 1.587 pazienti. Ogni anno quasi 900 immigrati senza permesso di soggiorno si rivolgono a questa struttura che opera nel cuore di Ballarò. Qui, medici e volontari, quattro giorni a settimana offrono assistenza medica, anche specialistica, ad adulti e bambini. Questo poliambulatorio è indispensabile per questo tipo di pazienti, principalmente per le prestazioni di medicina generale, di cure primarie, questo insieme ad altre strutture nel territorio. Questo però è fondamentale in questo quartiere ad alta densità di immigrati, soprattutto senza permesso di soggiorno. L'ambulatorio, che oggi festeggia 5 anni, è diventato un punto di riferimento non soltanto per la comunità di immigrati, ma per tutto il territorio. L'intervento del cittadino è fondamentale perché la nostra piccola farmacia viene rifornita dall'evento nazionale del Banco Farmaceutico, ma soprattutto da donazioni di volontari. Quindi è fondamentale che la popolazione si sensibilizzi e comunque continui a donarci, come già fa, devo dire, in maniera abbastanza consistente, però più è meglio. Di base quello che facciamo è visitare gli assistiti e fornire prestazioni di medicina di base. Tuttavia sono presenti anche delle specialistiche, è possibile effettuare delle visite specialistiche, visto che abbiamo all'interno del nostro organico dei medici volontari, quali dermatologi, cardiologi, oculisti e ginecologi.